Prosegue con successo la campagna abbonamenti Bus Italia del PAS TPL Umbria Unipg. Il nuovo abbonamento integrato dedicato agli studenti delle Università degli Studi di Perugia iscritti all'anno accademico 2022-2023. Più di 4.000, ad appena una settimana dal lancio del nuovo abbonamento, sottolinea l'azienda di trasporto e gli studenti universitari che l'hanno già sottoscritto. Per Bus Italia, un dato che sottolinea l'interesse e l'attenzione degli studenti per questa nuova opportunità di viaggio che promuove una mobilità ecosostenibile, sicura ed economicamente vantaggiosa. Il nuovo abbonamento, frutto della collaborazione di Bus Italia con Regione Umbria, Comune di Perugia, Università degli Studi e Mini Metro, è valido fino al 30 settembre 2023. Permette di viaggiare illimitatamente in tutta la regione sui servizi di trasporto pubblico, locali e urbani ed extraurbani, autobus, servizio ferroviario Sansepolcro Perugia Terni, Mini Metro e funicolare di Orvieto. Il pass DPL Umbria, un IPG, è in vendita alla tariffa di 60 euro, ma si legge ancora nella nota. Il prezzo può essere azzerato utilizzando il bonus trasporti di pari importo. Fino al 31 ottobre il pass può essere acquistato presso le 13 biglietterie di Bus Italia abilitate. Da novembre sarà invece possibile esclusivamente attraverso il sistema digitale di Bus Italia, portale web.